Buonasera amici ascoltatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento della seconda puntata di Alfredo l'equilibrista Oggi avremo un'altra esibizione di Alfredo che eseguirà un esercizio ancora più difficile di quell'altro Manterrà con un solo dito in equilibrio l'ombrello con la punta, vai Alfred E' come bella, sta campagnola, che bella ti dice Aspè, rito, 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 guarda, guardate il coefficiente di difficoltà dell'esercizio, dell'esibizione Guardate il coefficiente, Aspè, il coefficiente E' come bella, sta campagnola, che bella ti dice Vai, prosegui Alfredo E' bella, con questi città fuori Attenzione alla macchina, attenzione ai macchi Ah, ah, la fa sempre Vai, vai, cammina, a freddo, così facciamo fino a nanti cazzo Un pezzo grande Oh, yeah Vai, grande, con la punta, con la punta, ancora più di... Sono bravo, Alfredo, hai rita Anderetta, mi savi Ma c'è che mi basta, pure affogando calci come, annaggiamo Mamma, che prezzo E' essere l'ultimo pezzo che mi farò divertire Con un pezzo da... il cambio delle dita Il cambio delle dita, vai, va Il cambio delle dita, aspetta Con il pollice Guardiamo da vicino Grande Un po' di corso Un po' di giro sotto Un po' di corso Vai, in memoria della prima puntata, vai Pronti, partenza via Ehi E ce la fa! Un altro pezzo! Un applauso! Vai un altro pezzo! Per salutarvi! Per salutare un altro pezzo! Uno, due, tre! E' l'ultimo del palmo! Il palmo! Vai, mi arriva fino alla terra casta però! Curri, correndo ora! Correndo, mi arriva fino alla terra casta! L'ultimo pezzo! L'ultimo pezzo! L'ultimo pezzo e poi troviamo i nostri amici ascoltatori che ci seguono da YouTube! Vamoci a mezza via, sennò ci fanno la barba! E lo prende! E lo prende, grande! Ok, saluti agli amici ascoltatori! Con il microfono, guardate! E con il dito! Vi saluto da YouTube! E guardateci tutti! 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 Attenzione, ok! Tutti! Alla prossima puntata di Alfredo Lisoschi, il soso di Daniele Magro! Cantaci una canzone alla Daniele Magro! E che ne sa? E che ne sa? Siamo venuti fin qua! Siamo venuti fin qua! Ma voi su YouTube salite a Varda! Grande! Ok, alla prossima puntata!